ciao e benvenuti oggi parliamo della pedagogia e dell'allestimento del forum game che cos'è un forum game è l'utilizzo di uno strumento come il forum che serve per discutere e scambiare opinioni come meccanismo per creare dei giochi legati all'apprendimento vediamo tutto il complesso di questo tema prima di tutto il workflow dobbiamo creare il forum game questo è evidente ma dobbiamo anche stabilire la struttura del forum game per esempio si tratta di porre delle questioni di aprire una discussione di fare qualche cosa che assomiglia a un test e poi deve essere pubblico privato il contributo che ciascuno studente inserisce nel forum game e ancora come si conclude il gioco attraverso un tempo breve lungo attraverso altre modalità e infine dobbiamo creare la tabella punti e soprattutto stabilire i premi che non possono essere scollegati dalle dinamiche di apprendimento e quindi devono essere inseriti all'interno delle valutazioni tradizionali quindi si capisce subito che siamo di fronte a una serie di problemi di tipo pedagogico prima di affrontare i temi pedagogici vediamo concretamente di che cosa stiamo parlando abbiamo creato un argomento che abbiamo chiamato forum game qui siamo all'interno di classroom e abbiamo all'interno di questo argomento creato due giochi gamification vedete e la classifica a punti di questi due giochi questi due giochi sono stati creati vedete il punto di domanda con la funzione crea domanda la funzione crea domanda si presenta in questo modo inseriamo il titolo naturalmente le istruzioni possiamo eventualmente aggiungere del materiale come al solito poi qui cambiamo l'ordine del punteggio per esempio diciamo che alle soluzioni più interessanti della sfida che stiamo lanciando verranno attribuiti fino a tre punti possiamo inserire o meno una data di scadenza ricordatevi questo che è molto importante perché lo affronteremo sul terreno pedagogico nella seconda parte di questo intervento possiamo anche inserire dopo aver stabilito la data anche l'orario per esempio di conclusione e quindi lo sposteremo più avanti rispetto a quello che ci viene proposto poi l'argomento naturalmente lo inseriamo all'interno del forum game e poi abbiamo queste due opzioni anche queste molto importanti che affronteremo su un terreno pedagogico più avanti gli studenti possono rispondere agli altri studenti quindi vuol dire che in questo caso gli studenti possono vedere le risposte dei loro compagni e possono anche discutere queste risposte è possibile anche che gli studenti possano modificare eventualmente la loro risposta ripeto teniamo a mente queste tre opzioni calendario rispondere e visualizzare le risposte degli altri studenti modificare la propria risposta perché le esamineremo da un punto di vista didattico e pedagogico fra poco lanciata la sfida ecco come questa si presenta all'insegnante in questo caso abbiamo chiesto ai ragazzi di correggere questa lettera completamente strampalata che il docente ha fatto finta di aver ricevuto abbiamo avuto fino adesso 16 risposte 26 devono ancora rispondere 1 l'abbiamo valutato e gli abbiamo anche consegnato la risposta vediamo che cosa vede lo studente lo studente passiamo a questa schermata vedrà la domanda ovviamente non vede il punteggio assegnato ai compagni e può visualizzare la domanda che gli è stata posta in questo caso lui ha già risposto la risposta si trova qui qui compare un campo all'interno del quale lo studente può rispondere ecco che cosa può fare può dialogare con l'insegnante vedremo che l'insegnante ha corretto questa risposta e ha scritto un commento il commento lo studente lo riceve e lo visualizza qui ma può anche visualizzare le risposte dei compagni di classe vi ricordate che avevamo attivato questa funzione bene allora qui compare questa opportunità compariranno tutti gli nomi dei suoi degli studenti con il sulla sinistra e con la possibilità di vedere quello che hanno scritto e poi di scrivere dei commenti che tutti potranno osservare lato insegnante una volta che l'insegnante ha lanciato la sua sfida comincia a ricevere le risposte ed ecco che può annotare qualche cosa che può essere inviato lo studente per esempio può copiare questo questa frase riscriverla qui spiegare quindi cosa c'è che funziona cosa c'è che non va e così via e quindi spedirla allo studente e lo studente come abbiamo visto prima riceverà qui la sua la risposta del docente e a sua volta potrà continuare a rispondere quindi può innescarsi un meccanismo di dialogo sulle osservazioni che l'insegnante ha inviato allo studente ovviamente noi possiamo anche semplicemente creare un forum con lo strumento materiale con lo strumento materiale che cosa succede beh succede che noi scriviamo lo stesso lanciamo la sfida nel titolo poi diamo una descrizione e basta e poi pubblichiamo e poi che cosa succede beh succede che è per esempio andiamo a prendere un materiale eccolo qua discutiamo della big generation questo è un materiale che viene utilizzato come forum di discussione ed ecco qui che abbiamo le risposte perché lo studente può scrivere all'interno la differenza tra la domanda e materiale che nel materiale le risposte vengono date attraverso i commenti quindi non abbiamo strumenti per restituire la consegna allo studente né per attribuire i punti né anche per bloccare il gioco torniamo un momento alla ricezione delle risposte da parte dell'insegnante qui in queste caselle inserisce il voto dopodiché seleziona gli studenti ai quali restituire la risposta la restituzione della risposta può corrispondere alla fine del quiz vale a dire che sicuramente corrisponde al fatto che lo studente non può più modificare cambiare la sua risposta ma può anche determinare la chiusura del quiz per cui si accettano tutte le risposte che sono state inviate e poi la sfida a termine nel momento in cui avviene la restituzione da parte dell'insegnante occupiamoci adesso delle questioni pedagogiche didattiche che sono legate a questo sistema molto basico di gamification la prima questione dalla quale partire è che il forum game non è un'attività ludica o diciamo da animatore che serve per catturare l'attenzione degli studenti non è questo è uno strumento invece che si trova a pieno titolo all'interno di una piattaforma concepita come ambiente io ho fatto un webinar su questo tema che si chiama proprio allestire l'ambiente per l'apprendimento a distanza dove mostro un approccio molto diverso da quello tradizionale che viene inteso per formazione a distanza dove consideriamo che la piattaforma è un vero e proprio ambiente che va allestito su questo non aggiungo altro perché vi invito se non avete visto a vedere questo webinar che è il numero 4 lo cercate nel canale o nell'ambiente che ho creato in we school quindi la prima questione da comprendere è proprio questa che è il forum game è a pieno titolo una delle attività didattiche che si svolgono in un determinato ambiente noi abbiamo bisogno di condurre gli allievi in questo ambiente nella piattaforma abbiamo bisogno di sostenere una didattica attiva e di lanciare sfide che sono gli obiettivi che il forum game ci consente di raggiungere quali sono le prime scelte pedagogiche a cui siamo confrontati beh innanzitutto consideriamo che siamo all'interno di un forum cioè di uno strumento che serve per discutere e per porre domande dalle quali ottenere delle risposte farsi un'opinione quindi possiamo considerare che già la struttura di un forum basica può essere legata a degli elementi di gamification per esempio se consideriamo che possiamo lanciare delle sfide di che genere prima di tutto queste sfide sono fondate su una scelta che le divide in due categorie le sfide il cui tempo non è determinato e le sfide il cui tempo uguale a n cioè è determinato per esempio possono durare per dieci minuti per un'ora per qualche giorno e questo tempo deve essere stabilito prima o se è chiara questa distinzione quindi sfida senza un tempo e sfida con un tempo determinato cerchiamo di capire come la struttura del gioco può essere articolata in questi due diversi quadri faccio un esempio diciamo che in questo caso nel primo caso noi accettiamo le prime tre migliori risposte a una determinata sfida quindi non sappiamo quanto durerà sappiamo solo che quando le tre migliori risposte saranno state individuate noi chiuderemo la sfida senza accettare altre risposte che cosa comporta questo da un punto di vista della pedagogia dell'apprendimento comporta che il nostro intento è di sviluppare alcuni determinati aspetti della struttura cognitiva dei nostri studenti questi aspetti sono fondamentalmente tre uno la velocità di risposta quindi la capacità di trovare immediatamente in se stessi e non in fonti esterne la soluzione alla sfida che è stata lanciata rapidamente poi di spingere più avanti le capacità intellettive i ragionamenti che devono essere rapidi e quindi per essere rapidi devono essere estremamente logici e dunque potersi avvalere di tutto ciò che è stato studiato immagazzinato in termini sia di conoscenze che di competenze di abilità affinché questa operazione possa essere compiuta cioè la prestazione in questo caso che può determinare il successo della sfida a cui lo studente è sollecitato la seconda opzione si basa su un tempo n definito pochi minuti intere giornate naturalmente più il tempo è minore ridotto e più ci si avvicina al caso precedente noi non vogliamo fare questo vogliamo che anche se il tempo può essere molto ridotto ma deve essere proporzionato al consentire allo studente di impegnarsi nella decodificare una sfida e trovare le risposte quindi qui noi sceglieremo le risposte migliori fra tutte quelle che sono state date accettiamo tutte le risposte e solo dopo un'analisi da parte nostra decideremo quali sono le migliori allora quali sono i meccanismi cognitivi che vengono sollecitati beh prima di tutto il tempo di studio viene lasciato allo studente un tempo necessario affinché lui possa svolgere le sue indagini e trovare le sue fonti poi ha un tempo per la riflessione trovate le fonti radunate la documentazione può riflettere può pensare quindi abbiamo un processo qualitativo che è molto diverso rispetto a quello precedente perché perché qui si basa proprio sulla qualità anche della comunicazione perché lo studente al tempo di articolare una risposta che per esempio possa essere anche elegante ma anche il tempo di articolare meglio i processi logici per cui di mettere tutto insieme in un discorso che può essere sicuramente anche più compiuto e più approfondito rispetto al precedente le sollecitazioni cognitive sono molto diverse come vedete in questo caso quello che conta è dare allo studente la possibilità di trovarsi su un terreno nuovo e su questo terreno nuovo svolgere le azioni che ritiene necessarie per rispondere alla sfida che gli è stata proposta qui invece siamo più su un terreno che per forza di cose deve un po' conoscere deve avere un bagaglio che prontamente può richiamare alla memoria e su quale può lavorare per dare rapidamente una risposta ma non è finita qua abbiamo degli altri delle altre problematiche cognitive che dobbiamo tenere in considerazione per esempio gli stili di apprendimento degli studenti e gli obiettivi che si dà al docente anche qui abbiamo due scelte da fare una scelta definita con p privata è una scelta invece pubblica in che cosa consiste questa differenza tra privato e pubblico beh vuol dire che qui abbiamo uno studente che consegna le sue risposte cioè la soluzione alle sfide a cui è stato sollecitato in modo privato vede solo la sua la sua risposta la sua consegna e non quella dei suoi compagni mentre qui abbiamo invece una risposta pubblica lo studente dopo aver consegnato può vedere anche le risposte dei suoi compagni a volte le può anche commentare può anche scrivere qualche cosa può esprimersi sulle risposte dei compagni e viceversa quali sono gli aspetti cognitivi che vengono sollecitati in questo e in quell'altro caso vediamo in questo caso sono le conoscenze le conoscenze personali la riflessione e ciò che è consolidato da parte dello studente stesso cioè lui è solo di fronte alla sua sfida che cosa succede invece quando c'è un'interazione tra gli studenti che poi si basa semplicemente sul fatto che si possono vedere le risposte dei compagni beh prima di tutto abbiamo una sollecitazione dell'area dello sviluppo prossimo quella che vigozzi individuava come una come uno strumento importante di apprendimento dato che in gruppo anche se non si tratta di un vero e proprio lavoro di gruppo però in gruppo l'intelletto viene sollecitato a raggiungere nuovi traguardi a spingersi più in là delle sue capacità diciamo così tra virgolette non solo ma le risposte dei compagni sono anche una fonte di ispirazione lo studente da solo potrebbe non arrivare a determinate conclusioni magari magari arriva delle conclusioni corrette ma non a delle sfumature poniamo di queste conclusioni corrette cosa che invece potrebbe tendere a ottenere se viene ispirato dalle risposte dei suoi compagni dai comportamenti e dalle scelte che i suoi compagni hanno fatto quindi abbiamo qualche cosa che ha a che fare con una progressione dello sviluppo cognitivo qui è come se avessimo a che fare più con un consolidamento e qui invece con un portare avanti insegnante quale obiettivo vuoi ottenere perché lanci una sfida ai tuoi studenti allora per finire diciamo il workflow dobbiamo creare poi una tabella questa è molto importante la tabella una tabella visibile con i punti qui abbiamo due giochi ne mancano un tot per arrivare a quello che è stato definito come obiettivo cioè il raggiungimento di 15 punti intorno alla soglia dei 15 punti si otterranno dei benefici in termini di valutazioni nel giudizio finale e sotto e o intorno ai sette punti invece si otterranno delle valutazioni che incideranno negativamente sul sul sistema poi di giudizio finale questo sistema viene creato come abbiamo visto all'interno della piattaforma di classroom di google però noi potremmo aprire anche un forum con applicazioni esterne per esempio con google gruppi o altre come forum attivo non possono queste piattaforme normalmente impostare degli orologi cioè delle scadenze per le per le risposte perché sono proprio dei forum però lo sottolineo questo perché può esistere anche il caso di docenti che preferiscono utilizzare uno strumento esterno da integrare nella piattaforma oppure che ed è un caso molto diffuso specialmente oggi nell'emergenza in cui ci troviamo di docenti appunto che non hanno a disposizione delle piattaforme si arrangiano si arrangiano con delle mail perché quella è la condizione in cui operano e allora possono utilizzare certamente un forum per organizzare una struttura di gamification e comunicheranno attraverso di mail con i loro studenti quindi teniamo in considerazione anche questa ipotesi quindi abbiamo analizzato tutto il workflow per la costruzione di un forum game ovviamente questi sono degli spunti da questi spunti voi potrete sicuramente ricavare tutta una serie di tipologie particolarmente interessanti che poi ricordatevi devono sempre confluire in una premiazione che ha a che fare con la valutazione istituzionale che voi attribuirete poi agli studenti è molto importante questo sul piano pedagogico per oggi è tutto su altri temi altri interventi ci vedremo nelle prossime occasioni Grazie a tutti Grazie a tutti